Ehi ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video, qui è Tony Halo e siamo su Mafia Un secondo episodio e spero che vi piaccia questo tipo di serie, questo qui ancora no Però magari ora vediamo nei prossimi, diciamo, missioni più carino questo gioco, fidatevi di me Allora, va al bar di Morello e distruggi le auto parcheggiate nel cortile posteriore Ora la mappa si apriva, aspetta un attimo La mappa si apriva, ah ok con tab, non sbaglio la boh Dobbiamo andare Da questo lato qui Ok, dobbiamo andare verso sopra, dobbiamo andare nel ponte Ok, siamo arrivati Newark Eccoci qua Ok, eccoci arrivati Non passare da davanti, trova un'altra strada Stendi la guardia senza attirare l'attenzione Spacca le auto con la mazza e conserva i fuochi d'artificio per ultimi Forse c'è qualcosa di interessante nel capanno, dacci un'occhiata Buona fortuna amico Grazie, faccio in un attimo Sì, allora Da dietro forse c'è qualche piccoletta Allora, io ora non ricordo niente Si scende con il click test del mouse Ora dobbiamo entrare Ha detto dal retro Quindi Da qui, suppongo Ok Ok, si è aperto Devo stendere la guardia Ok Prendi le molotov Una qui No, magari più Ok Un'altra Ma perché le posi? Ah, ok Il problema ora è che Devo farlo a mano, vero? Che palle Vai, sfascia tutto Rompi tutto, vai Cazzo, esplosa quella Cazzo Ma è presto, presto Prima che viene qualcuno Ok Prima che esploda anche questa Rompiamo anche questa Che cazzo urli Ma stai zitto Non chiamare aiuto Fammi fare il lavoro Che si cavano sfasciato il taxi Questa è il taxi Tutti i porci Prendetele Di sante ragione Ok Scappiamo Scappa, scappa, scappa Ora Nascondi La mazza Detto Nascondi No No Ma perché sei stupido? Come devo fare? Ah, ok Ma penso dobbiamo scappare? Oh, un attimo Ho pensato che la macchina Non partiva Ora dove devo andare Non mi dire che devo tornare indietro Ma dai Che palle Va bene Torniamo indietro Questa è stata la più ammissione Che è stata la più easy E non vedo l'ora di usare le armi Raga Questo gioco mi piace per questo Quando si usano le armi E si fa sul serio E vabbè Che è successo? Si è tolto una ruota Addirittura Ciao amico Mi dà la macchina per favore Ma non mi riesco ancora ad aprirla No Scusa Tom Ma siamo rimasti apiti Ti spiace Caminiamo a piedi dai Facciamoci due passi da avere amici Per i colleghi Che magari ti possa anche amazzare Non voglio Ah, finalmente uno la possiamo Sali Tom Sali Tom, cazzo Muoviti Scappa, 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 scappa Scappa Rio, raga Mi sento troppo gta in questo momento Ma che volete Andate via Raga, se ci sono le malette Non bisogna fermarsi In questo caso no Siamo arrivati Finalmente Aspetta Aspetta Va mi scende Ok Anche questa È fatta Vediamo La casa Ci aspetta Eccoci di ritorno capo Oh bravi Sedetevi Tutto bene Certo capo Il ragazzo stoffa Prima che dicessero cannoli Erano appiedati E prima che potessero reagire Noi non ce l'avamo più Morello si starà mangiando il fegato In questo momento Tu dici Mi fa piacere Il ragazzo è un vero duro In questo caso Benvenuto nella famiglia Tom Hai superato la prima prova E ora abbiamo un nuovo associato Mi piacerebbe prenderlo con noi Capo Si vede che non ha paura E se l'è cavata la grande Bravo Tommy Non mi hai deluso Prendiamo alla tua salute Grazie Ok Nel garage sono presenti nuove auto Blot E adesso E una macchina Tutto questo Sono quattro macchine Ordinare Amministrazione Raghi Io non ricordo le missioni per niente Quindi Sono nuove Vediamo cosa Oggi bisogna fare qualche giro Per riscuotere i soldi Della protezione No Due ristoranti E un motel fuori città Bill del motel Era in ritardo L'ultima volta Pare che avesse qualche problema Perciò Oggi pagherà un po' di più Tom Saprai che i criminali Taglieggiano gli uomini D'affari con varie minacce Ma non è certo il nostro caso La gente che ci paga Riceve dei servizi Servizi che la polizia Non è in grado di fornire Il mese scorso Ad esempio Sam e Polly hanno risolto Un serio problema di violenza In un delizioso ristorante Ora il proprietario È certo Che cose del genere Non si ripeteranno Tu stai al volante Mentre Polly e Sam Raccolgono il denaro Normale amministrazione Dei a Ralph Di darti un'automobile E andate Ok capo Bene Che ne devi rifarci un bicchierino Eh Frank Ma che palle Vabbè Vai da Vincenzo Prendo un'arma Palla boom Devo prendere la macchina E l'arma E devo andare lì Già che mi dia un'arma Può essere che succede qualcosa E devo fare una sparatoia Non lo so Io lo spero veramente Perché mi rompo le palle Di fare il nuovo il tassista Dai Ciao Vincenzo Mi serve una pistola Ma dammi un fucile a pompa Che devo fare sta pistola Salve Tom Ti va bene questa Oh e caccia qualche fucile Alla sotto Eh Certo Anche se non credo Che oggi la userò Dammelo Ok Ora devo fare tipo F Ok la nascondiamo Sta imparando Sta imparando Ciao Ralfi Io e i ragazzi abbiamo un lavoretto da fare Ci serve un'auto Eh 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 la Tommy Guarda questa Ha 40 cavalli E fa almeno 60 miglia all'ora Ok Mi stia dando qualcosa di utile finalmente Non lo so Vediamo vediamo Non è niente di che ma si guida bene E' facile entrarci Basta prendere questo farino Infilarlo qui dentro E spingere un po' E quando senti click ci sei E' una semenza Grazie Ralf Ok Ralf Ok Ralf Ok Padre come rubare Man mano tu impari a rubare altre macchine E così via Un sistema molto simpatico Dai ragazzi salite andiamo Dai Non scuso Ho sbagliato a premere E' la processione Mi ho cliccato il tasto destro Ok Prima andiamo in un ristorante di Central Island Ok Andiamo di qua Beh raga io come di solito i percorsi Visto che questo gioco Nei percorsi non ci sono dialoghi Quindi io ve li taglio Quindi ci vediamo man mano quando Quando arrivo lì Attacco la registrazione Punto Cioè altrimenti viene un video di 30 minuti Dove non concludo niente Ok ci siamo Svoltiamo l'angolo E siamo arrivati Attenzione cazzo non ci vedi Mi fa scappare un'altra ruota che non vuoi farmela più C'è quasi uccisi Levo tirare le palle Ok Fermo Ci siamo arrivati Ok mi fermo Ok mi fermo E qui giusto Sì Dai fate presto però Sono a borsa Questo sarebbe le libici Andiamo E ora ho Boken al Pompei Bar Ok Ok Ho Boken Ho Boken Mamma mia Perché sempre da l'altra parte della città Vabbè raga Fidiamo sempre dopo Dimmi qua Ci siamo Ferma Tom Ok Ok Vai Muoviti dai Testa di cazzo Migno No pensavo che succedesse qualcosa Che palle Va bene Adesso si va a respirare un pottario di campagna Andiamo fuori città a Clarksmodel E addirittura I do fine lì Prima di staccare volevo dire una cosa Io Stavo portando una serie nuova Di minecraft sto parlando Che Si tratta di una skyblock Particolare Che volevo portare già Un mesetto fa Però purtroppo Il mio account Cioè Io ho cambiato il nome su minecraft E Ho messo Tony Allo Youtube Però ho fatto la cazzata Perché ho cambiato il nome del mio account Della Mojang Cambia il mio nome del nickname Anche C-server Quindi quando io entro Mi tocca registrare di nuovo il mio nome Quindi non mi da più le mie isole Io già avevo fatto dei progressi Quindi era una skyblock Che già ci stavo giocando da un mesetto E quindi Ho detto vabbè Giochiamoci un po' Vediamo come funziona C'ho giocato tipo Abbastanza C'ho giocato E poi la volevo portare sul canale Però purtroppo Non ci sono riuscito Perché Cambia il mio nome Mi è andata a portare l'isola Quindi devo aspettare che mi Passino i 30 giorni Per ricambiare il mio nome E per rientrare Su quel server Per giocare alla skyblock Ok Oltre i confini della città E io Ah siamo arrivati Non so come All'improvviso si è tolto Siamo arrivati a Questo hotel fuori città Secondo me qui succede qualcosa Perché è un po' strano la situazione Aspettaci qui Tom Facciamo in un attimo Ok Andiamo Chissà che succede qualcosa qui No smoking Se è stupido Se fumi sotto un po' di benzina Non puoi fumare Stupido E allora Oddio mi spari Corri corri Cazzo Basterdi Tommy Ne ho preso uno Che male Oddio Poli Chi è questo? Di assalieri che d'ora in avanti Questo posto è nostro Capito? Non tornare se non vuoi finire peggio Dei tuoi amichetti E dov'è l'altro? Recupera Sam Vogliono strappargli delle informazioni a botte Tiralo fuori da lì Devo portarti da un dottore Ah c'è tempo Prima Sam Tranquillo c'è Sam Ti ho un buco in petto Non ti preoccupare Soprò vivo L'ordinaria amministrazione Dai Finalmente Ok dovevo salvare Sam Stim Fanno Una pistola alla mano No Cazzo di carne in merda Non volevo ucciderti Mi dispiace Animalisti Se state guardando questo video Ok Bisogna fare un po' di parkour E si entra Ok raga Oddio No No dai C'è un metto 33 di vita C'è un 33 di vita Vabbè io c'ho una mira di merda Tutti qui svelti Uno è morto Ma io lo colpisco in faccia Volesti morire Eh rago 25 Ma dove vado Sì vabbè Perché no Cazzo Oh Ma tu da dove Da dove sei uscito Ho un nome di vita Lo sapevo Ritenta Dai Ce la possiamo fare Ma di qua non si può entrare Porca Allora Prima cosa Uccidiamo lui Ah così non ci toglie vita Poi Prendiamoci il Thompson Che Se casomai finisce No Apri la porta Apri la porta Ho detto Che mi protegge Ok Carica Morisce Ok Boom 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 Ho detto No E guardalo Vuoi morire Porca Troia Ok Allora Dobbiamo prendere Una pistola Che sia carica Vediamo Lì cosa c'ha Dami questa Ok E carica Vero Ok Carica la pistola Carica il Thompson Allora C'è uno lì Che deve morire subito Allora Un colpo che l'abbiamo dato Ma perché Non riesco a colpirlo Abbiamo un intruso No dai Che è difficile Sembra facile Ok Lui è morto Ora C'è un altro lì Allora Allora Vediamo il Thompson Intanto Perché ora Il Thompson Ah eccolo qua Ok Ok Morto anche lui Dimmi di si Ok Dai Oh Mi fa Daga mi sono cagato sotto Ok Sembra Eccoti qua Tirati su Dai andiamo andiamo Scoppiato Ti hanno conciato per benino amico Andiamo Cristo Non è niente Andrà tutto bene Il dottore ti rimetterà in sesto Ho visto uno raga Hai la pelle dura tu No Che palle Merda Ok aspetta Mica dobbiamo combattere No Hola No Non ho munizioni raga No 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 È difficilissimo Raga lo so che dite Ma che schifo Non è così Che non spara Tutto qui Morice Ah E morice Anfame Andiamoci Finalmente Ci siamo Tra un attimo saremo in macchina E sarà tutto Non muro di stranzù O ti riempio di buchi Davanti Su provaci Prova a fermarmi Certo amico Sta calmo Va tutto bene Va pure Nessun problema Su provaci Si poi ti inseguiamo Ti spariamo Dove No I nostri Soldi Prendilo Ma come Sta lì a terra Mannaggia Se perdo inizio da capo Mi incazzo Dai Accenditi Dobbiamo inseguirlo raga Non deve scappare Eh guardalo dove Eh lo sapevo Eh no Tutto da capo Perché Ah intanto Faccio così Ok Morici Devo salvarli Accendi questa cazzo di macchina Ok Ma c'ho sta macchinetta Ma dove Vedete Lui che c'ha Ok Penso che E' finita Ah ok Quindi ora E' stata salvata Va bene Ragazzi Ci diamo un attimo Qui Abbandona Usciamo Va bene ragazzi Io penso che il video Possa finire qui Perché penso che Sto giocando anche Da un'ora e mezza E devo renderizzarlo Tutto E sarà un po' Complicato Taglierò molte parti Anche se mi dispiace Però devo farlo Va bene ragazzi Noi ci vediamo Nel prossimo video Spero che il video vi sia piaciuto Lasciate un like Mi raccomando Il sostegno è tutto Vi ringrazio tantissimo Mafia è una serie a parte Ragazzi Per chi sa chi non piace E chi può piacere Fatemi sapere sempre Supportatela con lo like Per farmi capire se mi piace o no Commentate Dite la vostra Date un commento positivo O negativo Quello che volete Iscrivetevi al canale Mi raccomando Noi ci vediamo Nel prossimo video Qui Tony Halo Ciao